Possiamo immaginare che l'apertura della Casa Bergo per Anziani per le vaccinazioni possa essere un po' il viatico affinché quest'opera pubblica, che purtroppo è passata alla storia per il fatto che è stata un'opera pubblica incompiuta per molti anni, finalmente possa entrare in funzione? Ma certo, sicuramente sì, il fatto che venga utilizzata in questo modo è un utilizzo importante e ci aspettiamo che in continuità non venga più chiusa. Tra l'altro sicuramente anche alcuni lavori che devono essere fatti a seguito dell'alluvione ha subito ovviamente dei danni questo immobile, questi lavori verranno fatti nonostante a piano terra ci sia il centro di vaccinazioni, quindi sono delle attività che già sono in programma e che si spera possano essere fatte in breve tempo così da consentire un utilizzo in continuità, non sempre, cioè per poco tempo come centro di vaccinazioni ma poi per la sua finalità. Noi sappiamo che il Comune questo bene lo ha affidato, però c'è un negoziato tuttora in corso che riguarda questioni evidentemente burocratiche, lei pensa che si possano superare questi problemi? Sì, io credo che siano in realtà già superati, nel senso che ci sono state tantissime interlocuzioni per definire la questione sotto tutti i punti di vista e in realtà questo negoziato, se così lo vogliamo definire, deve essere soltanto formalizzato perché già ci sono dei punti chiari che condividiamo tutti e quindi credo che già anche questo sia risolto in realtà. Ed è immaginabile risolvere anche la questione del finanziamento che la Regione vorrebbe che ritornasse indietro? Certo, quello è un punto cruciale. Tra l'altro soldi spesi, come si fa a restituire soldi spesi? Infatti soldi spesi, è tutto collaudato, è tutto tra l'altro a regola d'arte. Possiamo dire che l'emergenza Covid potrebbe aiutarci a risolvere anche questo problema con la Regione? Sì, abbiamo questo contenzioso in atto, è un contenzioso che ovviamente noi riteniamo abbia una buona percentuale di possibilità di vittoria per il Comune, proprio nella considerazione che non è un'opera incompiuta. Cioè, finora non è stata utilizzata, ma è tutto finito, i soldi sono stati tutti spesi, quindi comunque noi confidiamo sul fatto che possa avere un buon esito. Certamente l'utilizzo che adesso ne verrà fatto come struttura strategica di rilevanza nazionale a questo punto è la definizione anche dell'affidamento, io ritengo che siano degli elementi che possano aiutare con riguardo al finanziamento.